Va ora in onda Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara, Penne. Partono i tirocini finanziati da Garanzia Giovani. Gli uffici della Regione Abruzzo che si occupano di attuare il programma di Garanzia Giovani Abruzzo hanno infatti pubblicato l'avviso che riguarda i tirocini extracurricolari in mobilità geografica transnazionale per i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Misura dunque prevista per i giovani che non studiano, non lavorano e non seguono corsi di formazione ma hanno la possibilità di arricchire all'estero il proprio bagaglio formativo partecipando ad un tirocino della durata massima di sei mesi interamente pagato proprio da Garanzia Giovani con possibilità che l'azienda estera che accoglie il tirocinante possa decidere di assumerlo al termine del tirocinio stesso. Per attivare la misura 5 bis il giovane deve essere iscritto a Garanzia Giovani e deve aver scelto nel patto di attivazione la misura del tirocinio extracurricolare in mobilità geografica. Una volta iscritto il giovane NET sceglie il soggetto attuatore abilitato, organismo di formazione, centro per l'impiego o agenzia per il lavoro al quale chiede di voler attivare un tirocinio all'estero. Il soggetto attuatore è tenuto a verificare tra le proprie offerte la disponibilità di una posizione di tirocinio adatta al giovane ovvero a verificare la possibilità di individuarne una adeguata sul mercato. I tirocini extracurricolari possono essere attivati nei paesi dell'Europa con un elenco completo dei paesi riportato online e poi c'è una specificazione ulteriore nell'allegato all'avviso. L'obiettivo principale della misura è quello di mettere a disposizione dei giovani opportunità di crescita professionale all'estero in chiave di formazione e di nuove esperienze. Il giovane dunque NET avrà la possibilità di allargare la conoscenza dei mercati del lavoro e stabilizzare la propria esperienza professionale con l'assunzione da parte della società eventuale al termine del tirocinio extracurricolare. La dotazione finanziaria complessiva di questa misura è di 500.000 euro. Una scossa di magnitudo 3.2 si è registrata nel tardo pomeriggio di ieri nelle Marche con Epicentro d'Ancona. È stata avvertita anche in Abruzzo. A segnalare l'evento sismico il sito dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che parla di una scossa di magnitudo 3.2 al largo della costa marchigiana all'altezza di Ancona. Un fenomeno non di particolare rilievo ma che si è sentito anche nella parte settentrionale della costa abruzzese. Il forum H2O e la stazione ornitologica abruzzese esprimono tutta la loro soddisfazione per la vittoria conseguita con il no della regione al progetto della WASH per realizzare un impianto di trattamento di rifiuti liquidi a Nereto. Lo dichiara Augusto De Sanctis che per il forum e la stazione ornitologica abruzzese ha seguito la vicenda. Avevamo, dice, evidenziato pesanti criticità sia nel procedimento sia sui contenuti in considerazione dello stato di gravissimo degrado ambientale nel procedimento della vibrata. Non si poteva aggiungere un'altra fonte di pressione antropica. Grazie all'attivismo del comitato locale di migliaia di cittadini, supportato molto bene dall'amministrazione di Nereto e da quelle dei comuni nimitrofi, abbiamo scongiurato all'ultimo secondo un progetto insostenibile. Come al solito, le uniche lotte che si perdono sicuramente sono quelle che non si combattono. Sarà un giudice monocratico a stabilire la sussistenza o meno del reato di falso ideologico contestato dalla procura all'ex presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, a quattro dei suoi assessori dell'epoca, oltre che al capo di gabinetto e all'ex segretario della presidenza, ritenuti colpevoli di aver fatto figurare come presente in giunta il presidente, l'allora presidente, mentre, secondo l'accusa, D'Alfonso quel giorno era assente. La giunta riguardava la fase preparatoria ai lavori al parco Villa delle Rose di Lanciano. Il GUP, Gianluca Sarandrea, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Andrea Di Giovanni, il GUP, lo ricordiamo, il giudice per l'udienza preliminare, ha disposto il loro rinvio a giudizio, fissando per l'8 giugno la prima udienza, che riguarderà anche gli assessori di ex assessori Dino Pepe, Marinella Sclocco, Silvio Paolucci e Donato Di Matteo, oltre a Fabrizio Bernardini e Claudio Ruffini. Riflettori puntati da ieri mattina sul cantiere di Via Colli, innamorati a Pescara, nel corso del primo sopralluogo di ieri abbiamo verificato l'organizzazione del sito con l'installazione di una segnaletica chiara per supportare gli automobilisti nel gestire al meglio il senso unico alternato. Ma soprattutto considereremo un sorvegliato speciale il monitoraggio dei sottoservizi. L'opera appaltata prevede infatti il rifacimento del manto d'asfalto con la scarifica e la ricostruzione del tappetino e del massetto. Ma è evidente che una volta aperta la sede stradale andranno verificate le condizioni delle condotte interrate per intervenire in modo puntuale e tempestivo se mai dovessimo ravvisare perdite, guasti o carenze, perché è evidente che sarebbe inutile rifare la superficie lasciando eventualmente danni nel sottosuolo. Lo hanno detto i consiglieri comunali Alessio Di Pasquale e di Forza Italia e Massimo Pastore di Fratelli d'Italia al termine del primo sopralluogo di ieri sul nuovo cantiere aperto in Via Colli Innamorati a Pescara. I consiglieri del Movimento 5 Stelle di Pescara tornano all'attacco della giunta Masci sul mercato di Via dei Bastioni oggetto di lavori sospesi da mesi per l'abbandono del cantiere da parte dell'impresa affidataria e al centro di ben nove furti con scasso negli ultimi due anni. Dopo l'ennesimo furto con scasso della scorsa settimana dichiara il consigliere comunale pentastellato Giampiero Lettere gli operatori sono stati invitati oggi in Commissione Commercio per palesare la loro delusione e rabbia per questi fatti incresciosi e per la totale impotenza di fronte a un'amministrazione lentissima a dare risposte da tempo sofferente per i tanti posteggi liberi e mai riassegnati per mancanza di iniziativa da parte del Comune nel pubblicare nuovi bandi il mercato necessita di soluzioni che tardano ad arrivare compreso un palese stallo della giunta sulla destinazione d'uso del primo piano che continua ad essere un patrimonio pubblico inutilizzato. E proprio dopo l'abbandono della ditta appaltatrice del cantiere al primo piano i cui lavori sono fermi da mesi è facile per i malintenzionati accedere alla struttura priva di sorveglianza e sfondare una semplice lastra di cartongesso per entrare nel mercato a piano terra dove ormai con una certa costanza rubano merci e soldi recando continui ulteriori danni alla struttura aggiunge lettere. Le deiezioni dei volatili diventano un'emergenza a Pescara ci sono zone della città come la centralissima via Trento e anche via Milano divenute impercorribili dai pedoni senza correre il rischio di essere bersagliati da piccioni e storni a questo punto occorrono contromisure urgenti per somministrare cibo in strada per limitare la loro presenza a partire da un'ordinanza sindacale per vietare ai cittadini di somministrare cibo in strada ai piccioni e altre specie valuteremo se consentiremo in alcuni parchi della città in modo da circoscrivere il loro stesso habitat al pari di quanto hanno fatto altre città come Torino mentre per i piccioni incrementeremo la campagna Ovi Stop utile a rendere sterili gli animali la commissione ambiente preseduta da Ivo Petrelli convocherà i carbinieri forestali e il servizio veterinario dell'ASL lo ha annunciato l'assessore all'ambiente del comune di Pescara Isabella Del Trecco Ieri nella sala consigliare del comune di Montesilvano il sindaco De Martinis l'assessore alle manifestazioni Comardi e il tenore Piero Mazzocchetti hanno consegnato alla sezione abruzzese dell'Unitalsi l'assegno della raccolta benefica effettuata nel concerto dello scorso 26 gennaio al Paladin Martin L'evento è stato patrocinato dall'amministrazione comunale e la cifra servirà per finanziare l'apertura di Casa Celeste una casa per la famiglia dei bimbi malati un gesto di grande generosità nel giorno in cui si celebrano le apparizioni della Beata Vergine Maria protettrice degli animali a Bernadette sul fiume Gava degli ammalati scusate a Bernadette sul fiume Gava oggi è mercoledì 12 febbraio e la direzione, la redazione, la regia e tutti i collaboratori di Radio Speranza augurano un buon compleanno al diacono Gianni Gianmarino e siamo alle previsioni del tempo oggi su Pescara e Provincia si prevedono sulla costa cielo sereno fino a metà pomeriggio poco nuvoloso nel resto del pomeriggio e sereno in serata con temperature da 7 a 13 gradi e venti deboli e nelle zone interne cielo poco nuvoloso fino a metà pomeriggio nuvoloso nel resto del pomeriggio e sereno in serata con temperature da 8 a 13 gradi e venti deboli il mare è previsto poco mosso era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu la radio della chiesa metropolitana di Pescara Penni grazie e risentirci Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica Radio Speranza Notizie